di oggi potrebbe essere stato il server ma non si sa perché anche team ha avuto dei picchi di segnalazioni a quanto pare in quell'ora lì perché c'era l'aggiornamento nuovo di fortran può essere infatti tocchiamoci le balle per stasera perché finché la live non finisce io ho una toccatina molto poterosa mi devo grattugiare le balle non lo farei intanto avvio Rai che fa Billy Beam pensate fosse un errore invece no che vi dobbiamo dire qualcuno ci sta tirando un po' di yella ma speriamo che vada tutto bene buona pasqua insomma io non ho preso neanche l'uovo a padre P li vendono le uova cos'è che vendono le uova di padre uova essere ci sono essere ci sono non sono arrivate ovvero per il sì Animal Crossing noi l'abbiamo preso dal abbiamo preso i punti su instant gaming e l'abbiamo riscattato sullo store per sicurezza per averlo al day one però so di gente che ha preso la chiave non funziona più la switch sicuramente tanto si deve adesso che siamo impossibilitati per colpa del virus sicuramente succedono tutte qua a me si è rotta la ventola quell'altro si romperà la switch tra l'altro quell'altro gli si disinstalla il computer visto che siamo tutti a casa Luke ha detto la notizia che TFT che è quello di LOL esce tra due giorni 19 su mobile vabbè che se siamo tutti a casa si può giocare la PC intanto poi c'è Animal Crossing prescindere comunque 19 dice TFT mobile io in realtà voglio Wild Rift che è proprio LOL LOL su mobile voglio più la quello ci vuole un po' non ci giocherei probabilmente con quel gioco a TFT ci giocherei volentieri fatti lo scarico probabilmente ma mi era ballenata anche l'idea di rifarlo mi era ballenata l'idea però mi hanno detto che devo aspettare la nuova season più che altro è che non ci capire più devo rimparare di nuovo perché sono cambiati tutti sono cambiati tutti anche l'FPS di Riot in estate sperando ci mettano nell'alpha anche prima l'abbiamo richiesta e tra l'altro con la Riot a me piacerebbe un sacco cioè non faccio LOL quindi che ridere mi piacerebbe un sacco collaborare però perché beh si sono dati una bella mossa ultimamente sì no mi piacerebbe un sacco perché comunque sono stra fan della Riot cioè di dei personaggi di League of Legends mi piace un sacco tra l'altro tra una settimana esatta una settimana esatta esce Disney Plus devo ancora fare l'alaboramento continuo a dimenticarmi ricordatevi che è in sconto adesso quindi eh sì Thanos che fa così e abbassa solo sconto Thanos non so se avete visto nel piccolo teaser schiocando le dita abbassa di 10 euro lo sconto in realtà l'FPS della Riot è un Counter Strike Light è like però più o meno cioè Counter Strike Meet c'è solo quello Corvo che puoi fare ma ha senso fa proprio quello sì ha senso fare l'annuale perché paghi un cazzo paghi veramente pochissimo la mia ragazza appena letto il presso di Disney Plus non ha fatto non ha fatto passare un minuto da comprare l'ho fatto bene perché non costa niente attualmente cioè niente nel senso 50 euro all'anno se uno non guarda un cazzo costa tanto per uno interessato è ovvio se uno mi dice mi fa schifo i film Star Wars mi fa schifo i film Marvel ti dico mi sto depositando nella sedia come faccio a giocare scusami non mi ricordo già i tasti speriamo i tasti sono quelli sul pedleezer comunque premerò un po' a caso via allora amici vi prometto che farò almeno un punto è come un anno di PlayStation Plus esatto allora controlla ogni tanto perché mai mi cago ho l'ansia controlla se sto cagando già adesso infatti pian piano mi vedrete sempre salire un po' di più di livello arriva la stessa regina sì altro oggi hanno fatto un mini direct sugli indie di Switch oltre alla notizia di Play non so c'era qualcosina di carino però dovevamo decidere se fare quella cosa domani o no non so non avrebbe molto senso perché dovrebbe essere una cosa solo tech esatto non mi va piuttosto la sera non ne parliamo perché dobbiamo fare FIFA però comunque troviamo il momento di parlarne tanto il venerdì sera ce l'abbiamo comunque per chiacchierare in caso proprio vada proprio in là però appunto domani c'è anche alle 17 c'è il cosa come si chiama la presentazione della Play 5 presentazione tecnica della Play 5 quindi non credo la facciamo vedere magari fanno vedere il controllo beh magari faranno vedere qualche demo come ho fatto per Xbox la console non credo la facciamo vedere questi giorni amici siete pronti per spaccarli figa Marco però guarda caso la presentazione la PlayStation dice un giorno dopo due giorni dopo quella della Xbox beh certo la palla tutta da voi non mi ricordo dove si gioca tranquillo mi lo ricordo io li romperò passala ah col triangolo si col devo fare il giro di qua vai ora faccio il giro da questa parte aspetta che la passo al Jezero dopo che non viene accatassato ti è bravissimi Marco vai più avanti vai vai bravo facciamo un altro giro mi ha dato un pugno fortissimo ora ne arriva uno il Jezero ho passato a morte ora ci sono se vuoi vado dall'altra parte facciamo i 5 punti ostia iniziamo a farne uno Marco attento ok facciamo farne uno poi ma cazzo io ero convito che il gol era da me la porta era da me no no vabbè infatti ero convito di essere già il quindicesimo giro ma com'è roberderby ogni volta c'è un nome diverso a sto gioco comunque sembra carino comunque sembra molto carino e spero che lo sviluppi come si andava contro la gente sempre ditemeli ditemeli con la play eh quadratto allora giusto ok perché li so memoria a quelli no grazie l'ho preso bravo la palla passa la palla è un po' lottato è un po' lottato ho dato un pugno fortissimo a qualcuno e sono morto grazie e grazie per la compagnia questa palla grazie mille martino anche a noi vi ringraziamo per la compagnia di questo periodo comunque eh sì siamo anche noi dei poveri disgraziati ah moro passala subito suoi perché ce n'è uno dietro no no niente vi aspetto di qua ragazzi vai marco prendila chiama chiama buona marco maria pigia palla pigia palla dove è andata marco pigia palla passa la palla vai moro occhio vi ce n'hai uno dietro ah vuoi fare un altro giro tanto non potevo segnare quindi no la so scordata l'ho preso eh 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 vai lezzor dai che sono in tre qui vai marco vai tira buona stavo sbagliando andiamo tranquilli andiamo tranquilli andiamo non esageriamo qui viene rappresentato anche in whip it il film con elen page e il roller derby ah sì non si smette io appena c'è questo gioco ci nerdo comunque e c'è ed è dc tanto sarà free to play quindi non è che è free to play? sì sì oh la palla è qua no l'ho montato lo vado a prendere io sto scemo anche a questo lo sdrumo è sta tornando indietro e dai però perché le mancano tutti oggi picchialo di gomma no sta facendo il zico zago sta facendo il zico lin chi è scemo passa qui ah fai il giro dietro passamela passa passa non so non vedo nessuno è dietro dietro è dietro il test ah non me lo fa passare mamma mia che dribblatore tieni Moro e niente e mag grazie è strano quando sei troppo lontano non la tira neanche a caso proprio non te la cazzo non con il ripresa non puoi passare e dovresti fare il giro d'altra parte è malato un pugno è nata ha tirato un pugno oh che bestie dezzlatore è passato dietro Moro e mi viene dov'è la mia palla ah jether fai il giro bravo ho preso uno vado l'ho preso angola ancora lo sto pulizzando vai Moro ce ne abbiamo uno dietro ma devi fare tu ah vogliamo fare più giri cazzo ormai dai sono morto però aspetta Moro scappa ce l'hai dietro occhio volevo pirouettare ma non mi è servito ma io andrei con gol singoli cosa faccio ma ormai c'è un vantaggio di due facciamolo questa pazzia un po' di shove a parte che loro hanno dei bot ma guarda che magari sono ho finito ce ne sono altri fermatelo sto tornando di qua la palla occhio che scappi prendite spazio ops vai Moro e c'è sto tizio vado io vado io che il botto in realtà hai amato un cazzo tu ah te ne hanno da l'altra parte te ne hanno da l'altra parte questo lo butto giù non ce lo faccio no ho mancato ho mancato ho mancato mi sono rallentato ah sta iniziando il giro in realtà l'ha iniziato adesso il giro si si l'ha iniziato adesso si bravo passa la chiesa su ah vabbè ok vi sono tutti e tre Moro bestia colpito vado a riprendere fai anche il primo step del giro ok però mi serve vado a riprendere è niente sono arrivato tardi ma scusate sta retromarcia ogni volta poi scappo ok l'ho preso ahia mi hanno sbrumato vado vai Marker inizia il giro su ok vai Lianzar prendila prendo io vabbè li preso tu vabbè vado avanti in caso l'ho fatto cadere sono Moro vai sei da solo tira vai io avrei fatto il doppio giro eh lo so ma è proprio lì però siamo veramente troppo campioni ora com'è ah che cacchio sta andando bene io la chat la vedo ferma questo ciocca sempre al 75esimo minuto eh non so io non seguo lo sport quindi mi hai colto impreparato purtroppo immagino sia una trasmission abbiamo fatto veramente il 60esimo minuto ah si il 90esimo era il 60esimo così a metà si interrompono vai Lianzar dove vai passa volevo provare abituarmi a scartare la gente io la concludo funziona un po' del cacchio se ne un altro l'ha ripresa l'ho presa io l'ho presa io ronaldino eh qua tira ma siamo bestiazzi bravissimi popovic buonasera rantovan buonasera a tutti belli oppio mi dà fastidio che non c'è una classifica di niente però di assist cosa era più divertente secondo me eh ma perché Roberta che spray è divertente come negli sport veri metti assist gol a me per me è più divertente sì ma perché ancora ancora devono mettere tutte le abilità cioè prima non potevi aggrapparti non c'è niente sono tutti qua sono ragazzi allora presa io sei riuscito a prendere la passa la passa la vai vai vado ad altra fatti vai moro piglia questa pastiglia Marco sta attento passa la lizard oh mia che professionista del dribbling una botta no un altro giro lizard ma così abbiamo vinto sono fortissimi però abbiamo vinto abbiamo vinto per gol ciao bellezza ciao a tutti sì abbiamo vinto perché ne abbiamo fatto ciao raidini ormai niente fiva stasera è perché purtroppo a Marco gli è scomporso un bar lo facciamo domani lo rimandiamo a domani decisione della web sì dopo causa coronavirus domani ma che skin ma guarda quello che scioppone eppure gli abbiamo fatto il culo se ti vesti a modo però anche tu eh ma non ho visto se ho sbloccato roba non sbloccio devi comprare dallo shop allora ho loro a play io non posso andare nello shop mi si è bloccato mi hai cacciato quanti punti ho mi si è bloccato zut tanto mi compro ma ho la maglia da voglio l'accapulco mexico Marco sì è bellissima anche io la voglio facciamo questi oggi eh ma non so se mi bastano i sull'in quanti ne ho 7000 posso giocare però oh guarda che bellezza il tasto gioca non rimane spinto che fa eccomi moro il tasto gioca non posso cliccarlo eeeh è scomparso nel mio pc amici lo sto riscaricando sto vedendo cioè non in questo momento adesso l'ho messo in pausa però stavo riscaricando non so come mai si è tolto ma poi che bellezza sicuro non l'ho fatto volontariamente posso fare falli che il fallo non c'è che bello è senza espulsioni senza munizioni è fantastica senza odorazioni senza pipopipop no c'è qualcosa che non va siamo dei ballerini che c'hai ho cliccato su roller champion e mi sta prendo Rebo 6 amici qualcuno ci sta buttando Jella siamo tutti d'accordo su questa cosa ormai è assodato non ce ne va bene una ultimamente ormai è fatto è così è ufficiale amici vogliono ammazzarci in questo in questo periodo di quarantena ok adesso era giusto su stimi si stanno disinstallando giochi a caso ma l'onita l'aveva fatto anche me preferisco continuare a pensare che non sia così facciamo finta di no per favore non vorrei svegliarmi prima della live di nuovo con un gioco disinstallato no quello lì vecchio perché marco per locare su you play no no quello l'ho fatto apposta si faccio prima cioè apro rainbow 6 mi log e mi disconnetto perché mi dimentico ma come tu gito ma dai sulla one perché il wifi fa cagare appena finito ha giocato fino agli due di notte si apposa no no è assenza tutto il scemo cretino grazie Marelli io ho premuto però è un trucco incredibile in realtà perché clicco su rainbow mi loga su ubisoft e disconnetto subito è una genialata non devo fare lì mettere la password andrò a server la password e no anche io me la ricordo ma passate la memoria e no ma me la toglie tanto quindi a sto punto faccio quindi ma scusate dove si coprono le cose avete letto eh skater sopra quando vedi prendo il mio telefono lo schiaccio ai lati così e invito no non la facciamo alla live domani per la cosa della PS5 no non credo a sto punto no perché dovrebbe essere solo una cosa tecnica e alla fine non interessa fosse stata una roba dove poi magari annunciano anche qualche giochino e però infatti non lo sappiamo per ora però non siamo bruttissimi come ti permetto ma oh del pt ti sparo eh ti prometto il mio telefono mi è ricrasciato di nuovo che palla io non ho parlo non vado più nello shop e andiamo subito a penalino ma si è vestito di merda si è vestito per quello che crascia il gioco eh mi sa sono le caratteristiche non lo so Federico hai la giustificazione grazie Axley grazie pezzi di ceramica siete troppo gentili infatti complimenti perché mi si deve rompere qualche altra cosa ma gioco il problema è che se dico le robe sono tecniche nessuno ne capisce niente cioè non è che nessuno ne capisce niente non è che nessuno ne capisce niente che nessuno ne frega niente i giorni di xbox me ne sbattuto un cazzo cioè che carica che fan prima nei caricamenti anche grazie al cazzo cioè vorrei ben vedere nel senso nel senso se non fosse così cioè se mi fai vedere che è meglio dico grazie al cazzo possono vedere i giochi ma ne dubito farò vedere qualche tech demo probabilmente però appunto la seguirei anche è che però non le dai grazie lady cioè piuttosto se volete poi se ne parla su discord magari troviamoci su discord magari ci troviamo su discord domani alle alle 17 e ce la si guarda insieme quello magari si sì 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 non è una brutteta eh a parto gli ezzar ma si è vestito di merda eh non piuttosto che fare di nuovo non so ma io piuttosto mi sarei vestito bene invece guarda ragazzi niente fiva perché è scomparso dal mio pc lo stiamo cercando ho mandato una pattuglia e vediamo domani sera domani sera probabilmente siamo per probabilmente dico perché si sa mai che potevo scrivere del titolo domani sera in effetti in caso aggiorniamolo tra l'altro una cosa che non abbiamo detto perché probabilmente la reputavamo anche ovvia nella nostra testa ma venerdì che gatto fa la 12 ore noi la sera facciamo la live dalle 9 alle 10 non ci avevo pensato ma si perché lo davi per scontato si perché lo davo per scontato non ci ho pensato effettivamente però tra l'altro ribadiamo anche che probabilmente sabato ci sarà una live per i sub al pomeriggio ma abbiamo deciso cosa fa ma abbiamo più o meno deciso non mi ricordo si l'avevamo detto ah si il monopoli tra i nostri quello lì quello lì che abbiamo fatto nella dodizione bene ma guarda che brutto poi vi diremo meglio io sono una fica questa non è free to play nel senso perché è ancora un'alpha poi sarà free to play il gioco uscirà free to play comunque è una close d'alpha potete anche richiederla penso che non ci sia è tutta loro arrivata la palla pistolino di lame non hanno fatto il primo giro però c'è un VIP dopo ti metto target ma sono sotto terra e vince a stato target sono ribaltato vai laser intercetta ah io che mi ho devastato qua con la faccia sto scemo ora vagli addosso mangialo bravo ho colpito no mi ha preso di nuovo allora che fa vabbè tanto gli si è annullato no gli si è annullato e finisco ah si si c'è annullato è lo denied beh comunque non va fluidissimo no no ma non va fluidissimo però credo siano problemi di server no dove siete è stato del cacchio che ho fatto prega qua ho fatto un tiro incredibile va tirato sbagliatissimo vogliono fare un altro giro no dobbiamo fermare un po' no non vogliono fare un altro giro no non vogliono fare un altro giro che ha sbagliato il logo cretino prendigliela prendigliela ma lo può fare anche là dietro ragazzi ho passato ah non c'era nessuno ti ho sbattuto ah beh è sbattuto a terra ma con friends intercettabile ma lo vai se hai bisogno anche di qua ho passato agli vai agli agli sei lontano passala sei lontanissima guarda come la passi subito ah ho fatto anche il triucco eh no devi passarmela subito non credo perché se hai inviti come Rainbow Six dovremmo aggiungervi come su Rainbow quindi no se invece va a server magari contro voi sub non sarebbe ammazzo tutti diamo bisogna vedere quando uscirà come funzionerà arriva Moro ma che culo hai preso subito l'altro eh ma infatti ma che cacchio ma mi si va sotto terra in continuazione scusa io ottimo l'altra parte qualcuno vabbè che cazzo fatto vai dietersi solo tanto arrivano qui due però adesso eh passala appena riesci buona minchia anche dietro eh dietro no no vuoi fare due giri vai Moro occhio ce n'hai due uno dietro uno davanti eravamo nel secondo giro non mi racconti quello che altro ho detto no no perché no perché se me la passavi dietro ho segnato perché pensavo fosse inutile ostia ho capito che giri stanno facendo in taglia 1 man davvero cosa c'è è per pubblicizzare probabilmente fanno vedere la prima di The Mandalorian su taglia 1 si sta per pubblicizzare io ho passato non è una brutta idea è stata la prima si è scemo questa è più combattuta eh ragazzi si no dai questi si vedono sono comunque più bravi vanno vanno assieme vanno eh mi ha sbattuto alle 23 e 30 dietro devi fermarlo sui l'ultimo mi ha fatto il dribbling vado a fermare niente perché dall'altro ho fermato io mi ha fatto ok passa vabbè vai da su oggi ho preso ho preso 7 Marco ti vengo a prendere di là stai attento dietro ok ci siamo in due vai Moro andate andate ho mandato un pugno a me possiamo già segnare volendo vieni qua Moro fai gli Ezzer no gli Ezzer prendi la palla arrivo sto girando male eh no mi sono messo un quarto d'ora a girare te la stavo per passare non ho fatto nulla vabbè l'ho ribloccato ma bastardi gli Ezzer fai il giro questi mi vogliono picchiare forte aia di nuovo gli Ezzer sei da solo non mi ha lasciato non mi ha lasciato mi sta veramente andando di merda vai Moro Marco alzati i piedi che paura eh sei da solo eh eh c'è una troppa gente eh stavo provando a girare indietro ma sto andando dall'altra parte io non capisco che giri sto facendo afferralo domenica 22-23-30 vabbè non ho un posto di guarda ma che cacchio l'hanno preso loro di nuovo ma guarda te vado a fermare di là Belotti Andrea grazie Belotti grazie Andrea grazie per il giuris grazie mille Belotti questi vogliono serare però che ho un lavoro riesco a lavorarmi senza problemi oh grazie mille Marco passiamo la dietro vai Moro oh no li Ezzer davanti ma vabbè non lo stai adesso te la fate finalizzare ahia sono morto ma è moro di qua passa 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 ma perché fermalo fermalo tira gazissimi bros che blegna che mi ha dato semplicemente fare almeno un giro portandola senza intercettare semplicemente per capire bene guardate quando quando si fa il giro della palla partendo dal canestro si illuminano vedete ci sono queste linee si illuminano ma prendo io invece ciao e devi maestro dribbling che pugno che pugno vuole tornare di qua e poi farmi passare indietro nooo ma si sono sbute ah no era il dietro li sto bloccando tutti li sto bloccando tutto eh ma questo va eh siamo qui a picchiare uno che paura vale buona sera belli grazie vale che grazie mille buonasera anche a sei grazie mille ha fatto un bel gol questo manca il menato come se non ci può scuovare no a noi ci hanno dato le chiavi no no si ci hanno dato ma in realtà potete richiedere le chiavi per la closed so di tanta gente che l'ha ricevuta guarda io lezza vado il giro da troppo eh già qua erano portato se andate nel sito che cacchio dargliele io provo a spettare vai dove la fare ce l'ho io ok vai lezza ah chi ha preso me eh ma sono tutti i quadri io cerco di stare di qua per ricevo abbiamo fatto una rissa in credit the warriors è diventato minchia la minchia aia dobbiamo fermarlo dobbiamo fermarlo cazzo a chi ma è passato eh la botta te la prendi cazzo a chi ma grazie mille si l'ho fermato ah però bisogna prenderla arriva un altro è sempre loro è sempre loro sono sempre appiccicati come aia ma basta menarmi dov'è aiuto aiuto lì bravi non ce l'ha fatta vai prendetela no me l'ha buttato è l'occasione è l'ultima occasione fanno il double giro dobbiamo andarli a stoppare un muro si no no chi fa c'ha problemi abbiamo avuto problemi facciamo domani non l'ho fatto fanno il settimo giro è ma intanto non si sa è da dietro l'ho fatto ciao grazie a chi ma non sta adesso grazie a chi ma forse l'avevo già ringraziata ma non mi ricordo anche a vale che che non t'ho ringraziato prima ero preso dalla paura del ficcare a tutti grazie che sforo mi rebelle vai gli ezer lo sappiamo che andava di là la mania mince ora te l'ho fermato vai è perduto adesso le prints credibile faccio un brock aia ma questo è uno stronzo allora e taglio vai moro ezer schivala andiamo andiamo tutti insieme no tutti qua no non ce l'ho fatta guarda te ma scusa sei rialzato questo pezzo di sterco grazie mille marachella siamo moro siamo perduto stai attento è niente è una presa è una presa va a fare tre goals marco 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 tirata di ezer marco è matto è finito no last chance last chance ci ha dato vai moro ci hanno caduto ma niente andiamo a fare di ciò per forza chance ah che parla grazie ma che sbomir beh ci sono i fan quindi non so perché te lo capito grazie 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 34 come shaquille o'neill quando salva quando stava i lakers termoloso grazie mille cosa che salva ho io ah la mia cosa c'è la freccina nel mezzo ma è sempre stata qui nel mezzo la freccina si c'è sempre anche almeno ma a me c'è sempre allora io premo un tasto e mi crasha è incredibile sta cosa eh ce l'ho capito però non puoi andare avanti così eh no no secondo me come sarà come cioè come reno come rocket league quel che le però magari qui si può creare non lo so può creare la partita con la password cioè senza giugno sei amici e non sarebbe male mi piace ficca guarda che moro da me ha perfettamente la corona in testa lì che corona proprio una princess ah si era sopra eh si giustamente Marco c'è qui con me la regina d'inghilterra principessa contessa no la contessa ce l'ho io prima o poi devo farlo un cartonato di una contessa io me lo devo mettere qua dietro però la voglio completamente nuda che ci banano tutte le live non avete non sentite le soundtracks però cioè sotto c'è tutto il coso però non le sentite perché c'ho la modalità streamer per non far sentire le musiche per il copyright se no ti danno il copyright ti invizio e prendo il mio cellulare lo strizzo per bene con le mani e mi ha invitato gli azer tanto ha andato sotto la contessa signora l'ho fatto bene molto bene mi piace bombare ficcare 100 bit di Xout grazie Xout per i tuoi 100 bit molto gentile grazie Xout 100 bit corrispondono a un'altra si veste a moto non si veste guarda come siamo fichi 9 vuole cambiarlo il pc ma i sciordini sono anche il signor Adda va sottra il conte invece è una signorina o forse un signorino dovremmo anche riuscirci a fare il pc nuovo ma adesso con questo problema del coronavirus poi ancora tutto a rimandare purtroppo senza si mimetizza una squadra avversaria si mi piace bombare f***are mandarci giù di brutto scopare Federico grazie per avere essere volevo dire grazie volevo dire dalla fatta della contessa mi ho detto grazie perché l'abitudine che comanda la serosa vi ride dietro qualcosa cosa ci deve non ho capito perché che senso sanità mentale forse sanità in generale sanitarici da invaterci donna sanità in generale ci da qualche rene può essere 100 bits ci da la credo la serosa figa andiamo mi appiccico sempre a niente capo ho dato un pugno in testa subito dove vai ho dato un altro pugno è qui vado te l'avete voi nemmeno tutti io sono fortissimo brockles va troppo veloce marco aio no l'ho mancato wyoming vado a fermarli di là che sono con il mio stile che gli ho tirato un calcio nel buco quello ma fissato pubblicità negli ospedali si fanno la croce rossa in dato che soccorrono uno pisello ma che tigrello vado il giro vogliono fare il double sono avidi loro ce la fanno pure perché se ne pentiranno mi hanno soraiato non ho capito spirito il licchio non ho capito cosa vuoi intendere ma cosa vuol dire che ci ridanno indietro vuol dire niente amici è una donazione chiamiamolo lo sto chiamando ma che pugno ma come la palla mi hanno passato a marco perché era vicino ma mi stanno continuando a menare forte a me ma come è possibile che era accaduto se hai alzato la ripresa all'alto e l'ha ripresa all'alto ma non lo senti tutti pezzi di merda oh io che moro scappa moro via fuori attento vai vai Yezar vai che erano tutti da me brazzissimi qui li abbiamo fregati proprio con la vasellina volevano essere avidi e noi gliel'abbiamo fatto che dico che dico che dico che dico che dico che dico il vip attesta che hai fatto abbastanza punti e che ci sei molto fedele ti sparano 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 ma guarda che sei veramente un figlio non ho capito cosa serve il salto più che altro però ce l'ho amici vado via saltare quelli a terra magari per non cantare gli addosso marcomadilla abbassami la palla dove cazzo non ci vedo perché vai indietro è andato al contrario però eh lo so sto cercando di passarvela ma siete da un'altra parte è certo perché stavi andato al contrario li ho scartati tutti sono fortissimo sì ma mi serve bisogno bisogno è certo che bisogno stavi andato al contrario ma sì che stavo andato al contrario mi stavo cercando che uscivate fuori non c'ho neanche provato però li ho scartati tutti 20 volte sono delle pippe ci penso io so ok no no pugno in faccia ho sbagliato tutti i tasti benchia passamela bravissimo è tra l'altro c'è quello di harry potter è confermato che ne fanno due settimane che cosa vai morelli quello di harry potter vai che sei da solo c'è lì dietro ma sei da solo attento esco di qua facciamo no no facciamo i giri vai 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 cazzo morto non sono stato io non c'era un altro non si può non c'è un altro bravo Marco stai attento vai vai tu tira ma che figura non fate figure non ci credo Marco ma sei uno stronzo era più deciso dentro il tiro perfetto era che troppo che cazzo bisale che gli ho fatto ecco mi hai bloccato ecco cosa serve il salto mi hai bloccato stavo per prenderla qua no ma il salto dico quello giampesco che fai si è caduto non ci ho preso non tira non sono avidi anche loro era un giuro dentro perfetto era questo lo fermo io e l'ha preso il suo compagno subito abissare io continuo a buttarli giù ma ok l'ho preso bravo scappa arriva eh arriva uno facciamo il giro vieni dammi la palla la palla la palla l'ho presa l'ho presa sei d'assurdo fai il giro poi ti aspetto di namoro vai vai passa ok puoi prenderla direttamente vai doljezzar bravo fai non tirare non tirare eh vabbè avvidiamoci ho provato anche l'altra volta a togliere il miro non so come si fa togliere il miro non so come si fa se è il miro però le sono 3v3 non so se metteranno tipo un 4v4 non penso ecco abbiamo un po' i passi tutti un burdello c'è anche 1v1 non ha senso no non ha assolutamente senso no faccio la faccia scemo buona eh mi ha già dato no minchia questi li sdrai si rialzano in 2 secondi un ciampato vado a pre un ciampato dove vai scappa sarò guarda l'altra parte ma si ho fatto cadere ma l'ha passata ho fatto il più betta è pazzo eh ce la fatto eh ce la fatto eh no vabbè ho fermato ma ha tirato prima di fare il dropkick ma ho fatto il dropkick marfi vabbè di dietro niente che cazzo vabbè ok eh devi passarla dietro aspetta fai l'hazzo ostia me l'ho mancata cazzo quanto il eh ogni tanto la manca non va perfetto sempre mi sto giocando veramente a 20 a me va benissimo ma io ma stronzo eh questi ce la fanno ma chi ce la fanno non li faccio fermare pippo lungo eh questa te l'ha fatto ma cazzo ce l'hanno fatta eh ho provato a usare il vetro come salto ma non era bastardo ok eh amici che dobbiamo fare perché sarà immagini di marca aveva immagini di stima di marca aveva il no è lo vedevo giusto vai la pastiglia ma è stata buggata ma che fastidiosi velocissimo velocissimo no ve l'ho andata velocissimo velocissimo vai moro eh dai sei da solo marcio scusa marco vado velocissimo lo scarrate sono il marco dribbling vai minchia minchia vai moro che succede dove è la palla eccola vai moro sono qua in fondo ah gli ha mandato un pugno li hazzar sei da solo ah gli ha mandato un pube a paio di là li hazzar se vuoi va bene buono stavo c'è un po' le tira gigione grazie gigione grazie belli vi ricordiamo che fifa lo focciamo lo facciamo domani lo facciamo domani sera perché stasera abbiamo avuto dei disguidi tecnologici di natura addomita sempre basta perché oggi purtroppo è una giornata sfigata ahia ma questo è un pezzo di merda spero che non ce la faccia a giocare più potete cadere tutti e due sono fortissimo vai moro ti accompagno sento moro no l'ha intercettata pezzi di merda l'ha buttata dietro per fare il piunto bravo i tt no a stasera salta mi salta abbiamo già fatto stima lo scorso si l'abbiamo già fatto stima lo scorso hanno iniziato il giro orca miseria che logne la palla è la mia vai moro andiamo ma si come ha fatto a fare tutto col pezzo di strada si è lanciato tantissimo l'ho fatto cascare alla fine della tua visione dai l'ho ribaltato ripassamela abbiamo un bimbo troppo tessimo prende la palla schiveggialo ah peccato ah ma come la scopale è per loro è per loro siamo tre a uno mamma mia che forti che siamo abbiamo scatopecchiato abbiamo dito senza medio banno io ballo che bellezza ma per forza guarda come sono vestiti questi tutti barbone tutti disgraziati noi non li vediamo perché c'è un bug incredibile io li vedevo ah però dici i vestiti non vedete si si io sono master dribbling in questo gioco ufficiale ormai crediti ce ne fanno un sacco io ne ho 7000 voglio aprire il negozio al mio rischio pericolo i nuovi pattini volendo pattini verdi ci sono un sacco costano io non ce li ho mi sono comprato il guanto da forno niente no mi crasha ogni partita è possibile una cosa è scomparso guardalo daia che pena daia che pena dobbiamo chiudere intanto sono veramente bravissimi in questo gioco campionati mondiali come l'hai detto siamo ancora nella prima settimana del gioco aspetta ancora due giorni e poi facciamo schifo sì sicuramente penso sia l'esperienza e l'esperienza quindi probabilmente si sale di livello per le statistiche è ancora in alfa il gioco e quindi oggi abbiamo siamo sfigati i temax però tutto a posto è tipo una cioè mi piace come metodo di esperienza è un gioco da gli sport potrebbe tranquillamente entrare negli sport perché non ha statistiche che sbilanciano però non ha statistiche che sbilanciano proprio del gelo come rocket league si lascerò così ovviamente poi in realtà su rocket league la macchina cambia questo è stato forse scusate ieri sera abbiamo visto i video di Jurassic Park delle giostre grazie FNACA grazie FNACA un abbraccio rigorosamente a un metro di distanza cari termos bravissimo no Chiara l'ho tolta la ventola non è chiese rotta l'ho tolta via c'è l'altra ma l'altra va tranne su Rainbow su Rainbow non va niente non si sa ancora magari poi mettono i pattini che vanno più veloce le ginocchiere che cadi e ti rialzi prima puramente qualcosa da comprare di estetica metteranno perché essendo free to play ma è l'unico guadagno ci sta ci sono già le robe estetiche per forza quello e l'usam quello che dicevano prima forse di quello con lm page dovrebbe essere disponibile per ps4 perché dobbiamo avere la chiave e l'accesso l'accesso anche se no mi sa che era solo su pc questa era solo su pc mi pare dicessero l'altro giorno che era solo su pc allora non l'avete su ma si finchè estetica possiamo far pagare quello che gli pare a me interessa se vedete adesso c'è scritto sotto close and dance curati usa adesso mi va bene è la strada ma se che non è di qua dietro guarda il mio sesto senso moro è arrivato di qua chiede a lui aio ho fatto un pippo marco siamo caduti questi mi sa che sono bravi ma questi gli rompo la testa io gli spacco il culo sti stronzi adesso fanno già questa roba si è quale dove fanno le cure le gare di velocità di ciclismo si quelle di biciclettaio l'ho formato? si l'ho formato l'ho formato aspetta moro arrivo passo passo il canestro di là io pensavo fosse qui sono andato vieni moro vado io vado io non l'ho fermato prendi quella palla ho fermato però arrivo da te era veramente un'orgia di piselli l'asporto reale questo è di dubbio altamente mi sono incaffonato sotto il terreno ciao di sera ti stavo moro fa il giro fa il giro ti aspetto di qua vai vai bravo ti pozzo non lo mi passare la calda dovete segnare fate i gol non vedo il punto non c'era il punto capezzoli vabbè facciamolo nel secondo giro queste robe le dovranno sistemare ancora no fatevela prendere no io sono mastro dribbling Glezzar ma sono mastro lindo vai Glezzar ma non mi prendo sono fortissimo a fare dribbling vai Glezzar tira questa palla tre punti come si toglie tre punti che ha un modo per togliere quando fai il tiro eh non lo so magari con l'altro dorsale provato non lo so ho provato ho fatto impanicato ho provato tutto non succedeva niente comunque dribbling questo è il mio eh grazie 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 crazy guarda mamma come ci sono tre mesi chi è troppa gente e grazie a Marco Red grazie Marco Red questo mi ha subito batte già grazie belli suberini ho sbagliato straida ah sbagliato però fermato quello dopo si arrivano nell'anno dropkick Glezzar eh no mi si è bloccato no fan due giri vogliono fare tre giri vogliono fare e si è frizzato il gioco e niente siamo nel tarocone aspetta ho fermato ma che falle guarda di qua di qua di qua di qua vado ne approfitto gli apio eh t'ho premuto ma stavo scendendo gli apio pc si smicchierano un attimo le vuoi avvita ma torno subito un pezzo di sterco eh torno a aio e questi sono irraggiungibili ma non abbiamo il botto ce l'abbiamo ma fa quello che vuole eh si è uno stronzo eh eh niente se fanno questo hanno vinto eh si ma che cazzo di velocità ha preso no eh niente posto niente vabbè meglio così guarda hanno fatto il tre ma l'hanno fatto da cinque eh uno in meno si sente un botto comunque eh ma perché il boff va in giro a caso ma come cazzo si state vedendo state vedendo la mia panza poi un po' di testa di cazzo un po' di testa di Marco che è la stessa alla fine stai scemo pene partato vado via vai Moro continuo ma non posso passartela anche perché adesso si ti aspetto un'altra parte si e Moro no me l'ha paratissimo al volo bravissimo Luis una pistola strunz ma Glizzar sei quello sbagliato ah no invece sei giusto eh questo chi lo ferma no dai dropkick con la presa ma come 3-3 ma dai 2-2 ti ho sdraiato però botte è proprio un testa di pippo questo vuole fare a botte scemo cretino ebbè ma che stronzi no fermato vai Moro ti aspetto di qui vadis no c'è troppa gente no agglomerato di pippe Marco dietro ti ha sdrummato eh ma il botte che cazzo fa Glizzar fai cagare fai abbastanza e dai quanti sono piselli di agricoltura scarti due poi l'altro si riprende eh va bene meno Marco io si saremo su Hunt io gatto e The Prude Proton ho preso il Proton ho preso quello sbagliato vieni la palla mi prendi il naso hai preso quello sbagliato hai preso Bill Nye l'uomo della scienza vado di qui Marco siamo fero bravo bravo guardate sto botte di merda tira la palla bravo bravo mi ha best dribbler Mauro fai troppi pochi dropkick però eh ma perché li ricevo questa partita buono buono hai tirato un pugno sto scemo bravo prendi la palla chi è passa la palla chi è best dribbler vai Mauro tutti li ho scartati tutti l'altro dobbiamo iniziare il giro vai ma sdubsco sbotta che è caduto da solo è caduto ho spinto il suo compagno chiamala del botte che eh no è successo un musfatto tipo non ci ho capito veramente un cazzo qui eh bisogna fermarlo dall'altro lato eh no volevo sdudilabrare quello non ha dei capelli sordi eh no io però un calcio glielo ho dato eh io sono arrivato a piedi uniti sul vento però questi vogliono fargli sboroni vinciamo noi vinciamo va bene Marco uno in meno vai l'ultimo gol è il gol della bella Lizar se ti muovi eh occhio guarda che mi picchiano questi figli di puttana questi bastardi fermato può far bacco Mauro vai vai fai il giro o poi ti aspetto di qua Marco c'è uno che ti sduma bravo bravo eh minchia la vittoria è nostra bellissima stronzi con un bot con un bot a fare gli sgarzulli sti scemi sti scemi l'israeli cambiato i vestiti i vestiti voglio che cambi ok perciò non ti invitavo va le ali quindi abbiamo curato che gli azar che vi fa perdere questo potrebbe essere una tesi che studiamo perché vi ho detto anche prima voi quanti fan c'ho adesso 7600 eh buonanotte 791 877 come le tette quelle donne ma maiali dove è nato 1 maiali era nato su TS la frase maiali l'avano detto su TS non mi ricordo proprio il motivo a caso si poi dopo da lì così a casa anche dentro 1 baldo quello con la grafica è maiali lo studio che uscirà in estate su Nintendo Switch io l'ho visto però non mi adesso vedremo poi comunque la curiosità c'è però non mi sembrava chissà cose cioè mi sembrava tremendamente legnoso dal video che ho visto oggi e anche nel gioco dei mimi ma non è nato non è nato da lì nel gioco dei mimi già lo dicevamo sì Doom Eternal no non ci interessa non interessa nessuno non sono mai stato fan di Doom non mi piace allora mi ha dato dei 10 a Doom Eternal eh ma per i fan di Doom credo sia un ottimo gioco cioè un ottimo Doom a me mi fa caccare proprio però c'è il tappetino del mouse i amici Doom Eternal almeno c'è il tappetino di un gioco che è bello e poi hai visto Void Bastard ma Void Bastard è quello con le mutazioni e il roguelike è quello con le mutazioni ho sdraiato questo via via perché mi ricordo che non me ne avevamo parlato ho preso il bollo Marco non c'è miseria peccato Antonio Zekila mi ha dato il pugno Hazard sei ancora tra noi? sì sì però ora per ora è dietro però ti seguo ha dato un pugno no arriva vabbè fai il giro di dietro Hazard te la tiro eh Hazard se vuoi ma non l'hai presa Marco pigga di una pastiglia no no che è dietro? no no non dobbiamo rifare ah no sì l'ha arrivato il giro ok Marco non esagerare vai che succede? non ho visto dove l'ho tirata bene che figo ho fermato ero troppo veloce ero li ho fermati tutti quanti sono però continuiamo a menarci ma l'altro prende la palla del compagno bisello eh vabbè trocchi niente dai non ci ho preso il prostit non mi hanno iniziato il giro eh non in retromarcia fermato vai glielo io tagliamelo postit di pane ho preso eh mi ha dato un po' ne abbiamo iniziato mi ha sdrummato la fava no l'ho scartato su tutte e due incredibile eh ma io mi son buttato a pesce sotto un tiro mi son buttato a pecore si sa eh occhio aggrappatevi anche le spalle per andare più veloce si è scemo eh passa eh devo far forza il giro c'è troppa gente mi fermo a sorpresa vado via sono fortissimo va glielo vabbè non importa me la sono autocrossata no non c'è più dov'è finita eh c'è l'ho al pecorizzamento ma perché all'indietro sto andando io ma guarda che stupido ah non c'è nessuno di là ok lo so io no no l'ho ripresa l'ho si è vado guardi passa davanti aia morti quanti sono sempre in coppia come le palle è vero eh buzello continuo incredibile ok eh fai cadi c'è il giro non lo sanno che sono gli uomini della palla eh vaffanculo scappa non vi dovete più rialzare mi hanno ribaltato fai il giro poi me la ripassi di qua te ho cercato un po' libro eh però serve qualcuno c'è ne uno c'è ne uno basta che superi quello questo mi ha fatto cadere eh niente mi ho provato a fare anche la finta non l'ho fatto non è una finta devi comunque muoverti sono stato veramente un bacellaio non basta premerlo devi comunque muoverti eh ma l'ho fatto ma bua si è messo in ritardo più che altro eh passala sto finizzo aia questo tira aia e niente ho preso benissimo non sarebbe meglio mettere un timer al melee in realtà è abbastanza equilibrato perché dopo se no è veramente non è semplice colpire uno no per niente mi ricordo che nell'alpha delle tre era molto più facile schivare va dalla parte opposta comunque a quanto pare le ventole si attivano solo per i giochi ubisoft del mio pc perché la sento quindi via vai mo li ha mo li ha sono tutti qua eh però ora arriveranno ora quando vuoi sono qui ma dov'è la palla è a cacca vado io ok ma da mi sono arrivato in 13 niente denied calcio glielo dato l'ho ripresa l'ha ripresa al suo compagno incredibile e sono tutti vicini loro è una tattica anche quella io preferisco 2 e 1 sinceramente almeno l'altro segna furbi picchio assorbita picchio ma veramente sono tutti e 3 qui no l'avevo capito il movimento che buon calcio mi sono preso e mori vai li ha già aia la minchia la minchia no sono molto difensore in questa ma io sono più offensivo ok buono vado 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 io stavo dicendo che metti la palla ma la palla non ce l'avevo io veramente no l'ho passata mezz'ora fa l'ho passata eh ma infatti te l'avevo chiesta perchè lo sapevo che avevi difficoltà forse li abbiamo trebbiati tutti ci abbiamo cazzo la metti trebbia gigante adesso prendo io gli azzar vado a fare la tecnica dell'involtino primavera anale hai bisogno dammela apri eh appunto no ma aspettavo che moro o me l'ha chiamata più alto eh non mi ero confuso un attimo a fare dei movimenti del fallo bravi entrate nella nella situazione bravo gli azzar dammi qua niente ma tono era subito qui questa non avevo visto cazzerie vado a prenderla io marco posto è da solo si lo so è da solo anche come come le bici adesso ne hai uno passa prima di caverti vabbè che sia un svantaggio almeno per il parato che figura mondo visione aio arriva di qua ce l'ho quella tecnica me l'ha insegnata a marcelo lì vado ma oh sto prevedendo claudia mendor pensavo che l'aveste presa forse eravate troppo lontani ho presa ce l'ha il compagno si l'ho presa di nuovo pigate la pastiglia passa lo presi lo presi lo presi pensami non c'è andato di là ok cartati di nuovo vabbè vabbè vai moro eh 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 ti aspetto di qua aia sono morti tutti i due sei da solo ok ci siamo vai moro eh ma sdraiato la palla non è per a loro buona vai lezzar bravissimo ma siamo fotti che azione che avete fatto qui siamo fotti voce del verbo fottere è cascatuto al cielo quello lì salutemi io ne ho in play ma mazzo ti è scemo sto scemo Marco è tua vado ti è max grazie max grazie per gli undici mesi occhio struz vabbè non lo giro non lo ho iniziato aspettavo quello davanti avevo la telecamera verso dietro goodbye for now ah non l'ho preso che fail no dai super velocità super velocità super velocità super velocità di recupero presa io ok buono figura mamma mia che calcio nel bus che gli ho dato guarda sentendo dietro Marco vado vai vai sei da solo maia che dolor marco qui ma che fai le pippe sono morti grazie sei già sei già lo vedo non ci vedo non ci vedo eh no ero troppo a destra in realtà e quindi ho avuto delle frecce rimbalzanti e non ci capivo un cazzo bravo bravo vado vado occhio dietro orange team mamma mia non ha vigno che potenza che potenza non ci sto questa maleducazione che ci obbligano ad avere rispetto comunque per l'avversario rispetto solo per i pompieri però solo per i pompieri però solo per i pompom si è un po' strano sette minuti proprio si eh boh io direi possiamo fermarsi anche qua si e possiamo già redare il gaton si però io vorrei capire cos'è questa cosa se c'è qualcosa da scurcare fai vedere è vero skaters no non c'ho mai i soldi abbastanza che ne ho 8800 ne ho adesso ah posso cuore i guanti ho 4600 che c'ho sempre il guanto ti prendi i pattinini li ho presi il guanto da forno anche io ho preso quanto la forno io mi ho preso i pattinini fammeli vedere sta caricando all'infinito non lo so li ho comprati e giuro 8800 stavano 8300 quindi mi sta facendo vedere non si caricano ma mi sta facendo vedere eccoli marco io adesso li vedo guarda che belletti non c'entrano veramente stonano con tutto assolutamente però almeno stanno male agli occhi con il resto no ragazzi vi giuro che mi sto trovando benissimo a dribblare cioè una volta che entri nell'ottica io mi trovo benissimo a sfondare d'altra parte al posto però è un bel giochino sono sempre sempre un sacco ci divertiamo poi lo faremo quando uscirà anche ovviamente adesso finirà tra poco la non so quando forse era oggi era il 23 magari possiamo farlo l'ultima volta se riusciamo settimana prossima si può adesso domani sera facciamo fifa poi abbiamo magari magari anche nella per i sub una partitina così si può anche fare volentieri tanto voglio dire siamo lì dai anche perché vi mandiamo da gatto intanto vi mandiamo da gatto e dovete dirvi gatto prepara il pacco faremo verso le due sabato alle due del pomeriggio indicativamente due e tre del pomeriggio prepara il pacco ciao belli a domani ciao favolosi